Buongiorno e bentornati. Oggi 24 marzo ricordiamo Sant'Oscar. Ascoltiamo. Oscar Arnulfo Romero nasce il 15 marzo del 1917 a Ciudad Barrios da una famiglia borghese e cristiana. Terzo di otto figli, venne battezzato l'11 maggio del 1919. Dalla madre imparò l'Angelus e la recita del Rosario. Terminata la scuola, a 12 anni, divenne apprendista falegname. La sua propensione allo studio e alla intensa preghiera non sfuggirono al suo sindaco, che lo aiutò negli studi in vista del sacerdozio. Ordinato sacerdote rientrerà nella sua patria come parroco. Dopo diversi incarichi diocesani a lui affidati, divenne vescovo titolare di San Salvador. La speranza del governo era che col nuovo titolo, la sua pastorale spiritualizzata, potesse essere disinteressata ad ogni evento politico. Rifiutò doni costosi e non si presentò alla cerimonia di insediamento del dittatore. Preferiva i poveri. Di fronte agli squadroni della morte, che uccidevano i contadini e alle ingiustizie che il dittatore imponeva, pensò fosse necessaria una commissione per la difesa dei diritti umani. Le sue messe cominciarono a diventare affollatissime, memorabili le sue denunce contro i crimini di Stato. Il 23 marzo del 1980, nella sua omelia in cattedrale, gridò «Nel nome di Dio e del popolo che soffre, vi supplico, vi prego e in nome di Dio vi ordino, cessi la repressione». Fu la sua ultima predica. Il giorno dopo, nel tardo pomeriggio, un sicario si intrufolò nella cappella dell'ospedale della Divina Providenza di San Salvador e nel momento dell'offertorio, mentre Romero stava alzando il cadice, gli sparò al cuore. Il 3 febbraio 2015, Papa Francesco autorizzò la promulgazione del decreto che ufficializzava il suo martirio e lo canonizzò il 14 ottobre del 2018 in piazza San Pietro in Roma. La sua festa è il 24 marzo, giorno della sua nascita al cielo. E' giorno in cui, dal 1992, ricorre la giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri. Vorrei sottolineare le parole che pronunciò Sant'Oscar. «Nel nome di Dio e del popolo che soffre, vi supplico, vi prego, in nome di Dio vi ordino, cessi repressione». Sono parole di denuncia contro il potere del tempo, parole che gli sono costate in me la vita, ma parole che forse hanno lasciato la loro efficacia e hanno portato la verità, hanno portato la società un passo avanti verso la pace e verso il bene. La sua è stata un'opera un po' di denuncia, una parola che va presa un po' con le pinze, non dobbiamo esagerare, ma credo che noi cristiani, proprio in questo periodo storico, siamo un po' spaventati. Siamo un po' spaventati perché a volte dire qualcosa di diverso da ciò che si dice in giro fa puntare il dito contro di sé e fa perdere delle piccole cose. Noi non viviamo una persecuzione attiva nella nostra società, però viviamo un piccolo clima culturale che non ci consente a volte di essere spontanei come cristiani e questo riguarda soprattutto i più giovani che tendono anche a nascondere, quando sono a scuola con i compagni, la loro fede perché sanno di essere a volte presi in giro o comunque accusati di altre cose. Però il male non può prendere piede perché noi in un certo senso abbiamo paura di perdere la faccia o paura di avere qualche esito negativo. Quando c'è un'oppressione, quando avviene qualcosa, allora noi è bene che prendiamo posizione. Meglio, penso io, come è capitato per Sant'Oscar, subire a volte un piccolo controattacco piuttosto che divenire complici di qualche oppressione o di un'espressione di una violenza o di una cattiveria. Ma ci vuole coraggio e ci vuole fede. Per questo chiediamo l'intercessione proprio a Sant'Oscar. Sant'Oscar prega per noi.